Bella a tutti ragazzi, qui è Basil che vi parla E siamo nel primo vlog Qua in car mia Aspettate che accendo le luci Perché se no non mi vedrete Ed ecco qua Siamo tornati Con un po' più di luce Allora, volevo dirvi due cose Una, perché non ero riuscito a rispettare l'orario Allora, credo che avete visto Credo e spero che avete visto Il video in compagnia del Peo e del Vittorio Sulla Skylarge Faremo ancora episodi Soltanto ovviamente se vi piacciono Però questa serie la volevo finire Perché piace abbastanza a me e anche al Peo E al Vittorio Mi piace dire in casa mia a registrare Perché in realtà non registri Ma non facciamo soltanto casino Stanno qua due ore In realtà noi facciamo un episodio solo E a parte quello volevo dirvi che adesso Non farò soltanto Minecraft Vorrò fare anche nuovi videogiochi Dato che è un canale di gameplay Quindi Minecraft Questo Che è un gioco che ho appena comprato Spero che abbia messo a fuoco E che si chiama Prince of Persia Exclusive Adrenaline Qualcosa così È un po' vecchio Del 2008 sto gioco Però fa niente È abbastanza bello Ha un po' una grafica In stile cartone Perché tipo C'ha Tutti i contorni neri Comunque oltre a quello Volevo cominciare anche Diablo 3 Aspettate che prendo tutto Io di Diablo 3 ho la mega scatola Non quella in Non spaventatevi Cioè Si Potrei fare un giorno Farò anche l'unboxing di questo Anche se io in realtà Cioè Tre virgolette L'unboxing L'ho già fatta E comunque Farò il gioco Che è questo qua Diablo 3 Lo farò Vi informo Sono già avanti Non sono Indietro Ho già il personaggio A livello 33 E poi Avendo Aspettate se riesco a trovarlo Il cd dell'espansione Non ci sono dentro codici Si ci sono codici Aspettate Avendo il cd Appunto Dell'espansione Qua Questo qua Ho 700 missioni aggiuntive Se non sbaglio Tipo Una cosa così Si Ti aggiungono tipo Un sacco di roba Poi ho Pass Di 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 World of Warcraft Però sotto c'è il codice Quindi non posso farlo vedere Tipo I pass di Diablo 3 I pass di World of Warcraft E Hearthstone Questi tre sono i pass che ho Poi Vabbè A parte quello Così Con questo qua C'ho un sacco di livelli in più Potremmo giocare all'infinito E no Non proprio all'infinito Però Vabbè Questo è quello che Volevo dirvi come nuovi gameplay Che c'è tutto Un pacco Oltre a quello Volevo dirvi Continueranno sempre I video in compagnia del Peo E Aspettate che prendo Una specie Se la posso chiamare Fanart Che mi ha fatto Lo saluto Me l'ha fatta L'Arman Questa qua Lo ringrazio Poi Questa qua Adesso non la vedete bene Però vi Metterò tipo La foto Immagini Ora Ok Possiamo ritornare A A questo E c'è scritto Proprio un like Quindi mettete like Questa La terrò Poi A parte quella Non mi è arrivata A parte quello Niente Ho avuto un paio di problemi A computer Poi Basta A parte quello Mi sembrava Ti prodotti gli occhiali Però Era soltanto Un jack A parte quello Vediamo Se avete lasciato qualcosa Nei commenti Ma non credo Perché il video è uscito oggi Cioè Questo Per me È È sabato È sabato In realtà Voi lo vedrete di domenica Questo vlog Quindi dovrei chiamarlo Il vlog della domenica Fa niente Il vlog del sabato Perché fa Più Figo Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Non chiedetemelo a me Allora vediamo Sotto tutti i video Però Preferibilmente dovrebbe essere Sotto l'ultimo video In teoria Sotto l'ultimo video E ci impiega un sacco Allora Allora No no C'è un commento Hashtag vlog Chiede Matteo Gerardi Chiede Che computer hai E che connessione hai Allora Come computer Adesso il mio È un po' vecchiotto Ha sette anni È un computer È abbastanza grosso Però Essendo un po' vecchiotto Perché ha sette anni O forse otto Non è qua È di sotto In cantina E Comunque lo registro Però faccio Fa abbastanza fatica A registrare Mentre Come connessione Qua ho dietro Un router È di sotto Né un altro Come connessione Ho la 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 Alice Cioè della telecom Appunto Quella A 20 mega In modo che Perché prima ce l'avevo Quella fino a Fino a sette mega In realtà andava a sei E Però andava troppo lenta E mi ci impiegava A caricare Video di dieci minuti Ci impiegava Forse una cosa Come un'ora Un'ora e mezza Ci impiegava No Scherzo Un'ora e mezza Ci impiegava Quattro ore A caricarlo Perché Se vedete I miei video Potete scegliere Le varie risoluzioni Eccetera E quindi Mi doveva caricare Il video Quattro volte Più la copertina Che è una Cosa abbastanza bella E Sono immagini Anche abbastanza pesanti Però Faceva troppo fatica A caricarlo Allora Ho deciso Di Potenziare la connessione A 20 mega Appunto Qua Appunto Dove abito io A Polagia Arriva La 20 mega E in questo modo Riesco a caricare Video di 10-15 minuti In 15 minuti No Non ne ho più caricati Sì A parte un episodio Che forse 13 minuti Ci impiegano Un'oretta Cioè 13 minuti Ci ha impiegato Un'oretta Mentre Questo vlog Che adesso Sono 8 minuti 7 minuti 50-8 minuti Ci impiegherà Mezz'ora Più o meno No scherzo Ci impiegherà Di meno 45 minuti Per Questo vlog Anche se È abbastanza registrato Bene Collabopro Comunque Vi saluto Mi raccomando Seguitemi su Instagram E su Google Più Vi lascio i link In descrizione Seguitemi Soprattutto su Instagram Perché piazzo 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 Cioè Pubblico le foto Di Dove sono Quando magari Sono in via Sono in giro A fare un vlog Pubblico la foto E vi dico Ehi sono in giro A fare un vlog Dopo guardatevi il video E mettete like Ehm Appunto Mettete like E iscrivetevi Ciao Alla prossima